Siamo in attacco Il traga raga non funziona Io voterei bank visto che stiamo in attacco Ma è più che le mappe per aggiustare il matchmaking Eeeh no eeeh Ma raga il momento è molto buggato Il matchmaking fa schifo Il ranking system è osceno Il ranking system veramente Mi levi 37 quando perdo Se vinco me ne dai 21 Dimmi dov'è il senso Cioè dimmi dov'è il mio divertimento nel giocare E' solo frustrazione Perché io non devo essere costretto A vincerne 2-3 Prima di perderne 1 per non perdere punti Non ha senso Cioè se ne vinco 1 e ne perdo 1 devo avere gli stessi punti Supergiu me ne puoi lavare 1-2 Va bene Ma supergiu devo avere gli stessi punti Non ha senso che Ne perda 17 in più Cioè è quasi un'altra vittoria Me ne dai 21 Quindi capite un attimo che Preferisce parco a banca In difesa Cioè andando in attacco Non so dove spawnare Sapete Potremmo spawnare da qua e andare da gong No andiamo da Andiamo qua e andiamo da labs Tuk 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 Guarda prendo back per il Per bricciare Non mi va di prendere gli hard bricciar ogni volta Prendiamo back così c'ho L'hard bricci Ce l'ho Ma vorrei visto cosa fanno a twitch E i due droni I due droni Cioè c'hanno più stall di loro Uno al top Non penso Tu che stop Uno e due Top Guardi top Non ho capito la goal quindi non ci vado Ok Eeeh droniamo Allora lui è in arcade Secondo voi dice qualcuno Troviamo Non c'è nessuno Qua c'è mute quindi non si può Bricciare Il Q Non ha senso di esistere in questa parte Di mappa Ragazzi Wow Allora io lo piazzo eh Perché lo piazzo Ma poi secondo voi c'ha No niente Allora che ci ho provato Ma Ma Ragazzi abbiamo scoperto Una cosa perfetta Cioè loro Mentre che loro Killavano Noi stavamo facendo tipo National Geographic Breacher Abbiamo scoperto Come breachare con mute Un applauso A me c'era ancora il simbolo Ma Sa che la parte esterna Non la prendeva E noi siamo contenti di questo Mi madre non vuole Che mi faccio la mia carta 5 secondi all'inserimento Tu te la fai lo stesso Basta farti Yap O hype Tanto tua madre non lo sa Te prego Non ha senso Che a 19 anni Tua madre Ti vincoli Cioè non ti fa vivere Non ha senso 19 Perché poi Arriverai a un punto Dove non sai fare un cazzo Perché sei vincolato A tua madre Cioè Non ha senso Ma ve lo dico per te Non cresci così Cioè sei vincolato A tua madre Ma a 19 anni Cristo Non avrà neanche una carta Ma le be Stavo dicendo Ma l'hai rotto Come lo potrebbe mai rompere Twitch Mabbo One in cash One in cash Ok dude Ma secondo voi Questo picca Stavo dicendo Che sta rompendo tutto Pure io Stavo dicendo In cash Ok Oh Vediamo un attimo One in cash 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 Crouch Bravo Is he dead? Yeah Oh Asa mi Below Below Ok I'm reaching I'm reaching A I'm running I'm running Sì, vediamo l'inforzamento, credo. In eva. È un noctobot. Fanno i segnali Dai ragazzi E lo sapevo Quello era fuori Dai non mi è morto Ci siamo tre dati Ho perso troppo tempo Con Mozzi ma non gli prendevo La testolina da romano Ce la facevo Ero lì Dove andranno Giù Giù abbiamo vinto Guardate prendo Maverick Allora partita interessante Noi non siamo scarsi loro neanche Allora vorrei andarci da Gong Perché vorrei briciare dietro Sì Ciao donna come va Allora Gong Eeeh Ganno clear Annottenzione Ah internet è clear One in dragon Si, è vero. Che sento questo veicolo! Si, è mutato. Come ho detto nel bambino. È in 90 ora? Ok, ok. È ancora in 90. Sì, è un ping. Bello. Dock, è un ping. Puoi scappare, Shibana? Un ping. Dock è ancora in ping. Ok. Va bene. Ok, è lì. Ok. In the right side of the bridge. Literally on the right side. On team, exactly. Ok. È ancora in the corner. Ok. Ok, come guarda. Ok, questo è il drone. Ok. È un drone, è un drone. Mi ha distrutto, ragazzi Ma, ma, ma Guarda, va bene, poi te lo dico che ne penso Poi ne è più che te lo dico che ne penso di te Non sai? No, è scusato Ma vi rendete conto come mi ha preso? Veramente Cioè, ho fa spiccato, raga Neanche mi ha preso Cioè, mi ha ammazzato questo che neanche sa tenere il suo pello mentre che piscia C'è l'arma che gli è andata in oriente C'è assurdo Ma ho ucciso lui Fa spiccando, non è che dice ho piccato un'arma Armory, difesa Allora Cade, ce l'abbiamo, Mute, ce l'abbiamo Prendiamo Prendiamo Uamai Che, in teoria, c'ho la sola nero, ma ce l'ho tutto sminchiato Allora Mettiamo Oh, no Questo Oddio, questo lo potremmo mettere qua Così Poi, vorrei mettere Ragazzi, non commentate l'abbinamento dei colori perché già sto piangendo io, ok? Grazie Allora, uno qua Comunque verrà rotto, 100-100 Cosa si è uguale? Cosa si è uguale? Cosa si è uguale? Cosa si è uguale? Allora, lo potremmo... Allora, lo potremmo qua Cosa? Cosa? Mute? Abbiamo Mute? Cosa? 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 Cosa! Ok, vai! Oh, i c'hade, i c'hade! Eh, ma... stiamo scoperti da lì eh? Noi dobbiamo essere in sight perchè due sono già fuori. Ok. Sono messi un po' di merda i feli spinati eh. Ricarico! Peccato. Eh, il secondo è un po' fottuto. Un po' tanto. Ok. Ok. O non un dragon? Sì, non è. Dragon steps. Eh, ma era normale ragazzi. Lui da solo sopra. È entrata al corridoio. Il breccio. Il breccio. Ottio. Sleggio! Tier THP. Ragazzi, unlucky. Stavo vedendo là, mi sono girato e spuntato. Per mirare un attimo il breach. Mortacci da rippo. Oddio, che sfiga di merda. Ehm. Ehm. Non so dove metterlo. Non so dove metterlo. Non so dove metterlo. Non so dove metterlo. Ok. Uno qua. Ehm. Nessuno sta rinforzando. Però non lo sveggio. No, no. Ehm. Appena l'ho visto ho sparato. Solo che... Ehm. 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 Ho provato a flicka. Ma non ce l'ho fatto. L'ho lasciato con 30 HP. Alla, che dobbiamo fare. Shit happens. Ma proprio la rompiamolo. Ehm. 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 C'è un caffè C'è un caffè C'è un caffè Alla a ferit Q Ma non pot sa cei sa repetit Ok Q dead Hai fatto che amici ciò Ok Grazie Gallo per i due mesi grazie mille bentornato come va C'è un caffè L'ultimo nemico rimasto C'è un caffè 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 Sul tetto C'è un caffè Nel ccc viaggio C'è un caffè C'è un caffè Prende la porta Prende la porta Riprovare Armory Possiamo riprovare Armory Non lo so Provo Solis Proviamo Solis Cosa ne pensi della nuova canna lunga Farà troppi danni Beh non lo so Non lo so bisogna provarla Rompiamo a little bit of drones Zzzzzzzzzzz Allora dov'è provare una nuova attira qua? La gong? Ce n'è neanche uno Non ha un drone no? Ah perchè abbiamo mute Ecco perchè Sembra che mi si ricarica fast fast La madre è veramente lorda Tocca dead Bene c'era un'altra Questa è un caffè Mi spunta Questa è un caffè Allora uno era fuori Questa è una Questa è un caffè Questa è un caffè Questa è un caffè Non mi sono sicuro. Diffusore, diffusore all'interno. Si, c'è un CC di Dragon. Ha ucciso il camp. Ok. Si, c'è un PIN. Fuori, fuori. Perci, perci. Non parla. Si, c'è un Mio, c'è un Mio, ragazzi. Un PIN tre. Si, c'è un Arcade. Diffusore all'interno. Diffusore all'interno del caffè. Nice, GG. Buono! Let's go! Solis, ragazzi, usata così è decresto. Infatti, allora, non capisco la gente che dica che Solis è inutile. Solis non è inutile. È difficile da utilizzare. Cioè, non... Rispetto ad altri, sì. Ci devi mettere un po' più di impegno e strutturarla bene. Ma non è inutile Solis. Cioè, giocandola così è decresto. Vedi, quando dronano è l'Ironauti. Capisci se dronano dove sono. Cioè... Più di così, boh. È uno spotter assurdo in difesa. Allora, ci hanno levato 37 e ci hanno dato 30. Vabbè, dai. 7 in meno. Va bene così. Cioè, meglio di niente. Siamo sempre nel negativo di 7. Senta.